Carissimi amici di Santina, vi volevo presentare qui da Puerto Maldonado il mio amico Jorge. È una bellissima scimmietta che ha pochissimi mesi ed è veramente, veramente bellissima, dolcissima. Stiamo concludendo questo viaggio qui a Puerto Maldonado, sono nella famiglia di Marta dove ho trovato questa piccola scimmietta. Me la porterei volentieri in Italia. È veramente l'incontro con la natura tanto tanto bello e tanto buono. Veramente anche questi animali che sono bellissimi sono un dono di Dio. La scimmietta è piccolina ma questa attenzione che ha con le sue dolcezze è molto molto bello. Cari amici, qui da Puerto Maldonado vi voglio salutare dicendo che abbiamo fatto un bel lavoro con le famiglie. Porto a casa 10 adozioni di stanza da Puerto Maldonado, il progetto del nostro seminario, faremo la cucina e il refettorio e domani ritorno a Cugliaca dove da Cugliaca poi ripartirò per Bergamo il giorno 9. Statemi vicino, Fondazione Santina non può terminare, anche la nostra mascotte Orghi qui dice questo. Io vi voglio proprio ringraziare per tutto quello che voi fate per i poveri e voglio veramente adesso farvi mandare un bacio da questo da questa bellissima scimmietta. Ciao a tutti!